Oroscopo del giorno. Domenica, 26 novembre 2023. Ariete. Amore. Purtroppo nemmeno per questa giornata avrete la posizione di venere dalla vostra parte. Dovreste provare ad esprimere più apertamente i sentimenti. Chi vi sta accanto vi capirà meglio. Lavoro. Bene Mercurio, se lavorerete oggi. Collaborate per accrescere la creatività ed anche i risultati professionali. Toro. Amore. Degli incontri romantici e molto promettenti potrebbero arrivare durante la domenica di fine novembre. Per chi invece è già in coppia, tutto proseguirà in modo molto tranquillo. Lavoro. Riposate se siete liberi. Nel frattempo potreste provare a pensare già a qualcosa di nuovo per la settimana che viene. Gemelli. Amore. Per questa nuova giornata potrete ancora contare su delle belle emozioni. La domenica sarà piacevole e i sentimentali potrebbero farsi decisamente più forti per voi. Lavoro. Dovreste concentrarvi un po' di più su progetti importanti sul lavoro. Se sarete impegnati oggi, potreste già iniziare a pensarci. Cancro. Amore. Si sa che le emozioni intense rafforzano i rapporti sentimentali. Eppure, con questa venere in opposizione nulla sarà semplice. Potrebbe essere una domenica di fine mese abbastanza tormentata per l'amore. Lavoro. Potrete affrontare le sfide professionali con determinazione. Le stelle ve lo permetteranno. Leone. Amore. Stelle per niente male durante questa nuova giornata. Infatti, i rapporti potrebbero farsi pure più forti, mentre i single potrebbero fare una nuova conoscenza abbastanza interessante. Lavoro. Se lavorerete anche oggi, dovrete cercare di metterci sempre il giusto impegno nel vostro dovere. Vergine. Amore. Questa sarà una domenica di fine mese con una buona posizione di venere, che potrà aiutarvi nei vostri rapporti. Infatti, anche le intuizioni rafforzeranno i legami. I single potrebbero pure fare degli incontri nuovi. Lavoro. Maluccio sul posto di lavoro, con mercurio in posizione sfavorevole. La giusta disciplina per la professione potrebbe aiutare parecchio il momento negativo. bilancia. Amore. Durante questa nuova domenica di novembre le relazioni amorose vivranno delle ore romantiche, e questo permetterà di consolidare il rapporto. Niente male pure per chi è ancora single. Lavoro. Potrebbe essere un giorno fortunato per chi lavorerà. Anche la collaborazione sarà importante quest'oggi. Scorpione. Amore. Una giornata non troppo fortunata per l'amore, ma questo non vuol dire che le emozioni saranno del tutto assenti, anzi. Sarà però una domenica poco movimentata sul piano dei sentimenti. Lavoro. Dovreste valorizzare di più le vostre abilità, il vostro talento, sul posto di lavoro. Questo non sarà un giorno per niente male. Sagittario. Amore. La posizione di venere vi permetterà di essere aperti e sinceri in amore. Questo vale a dire, che con il partner, e con un'eventuale nuova conoscenza, tutto dovrebbe proseguire in modo abbastanza sereno. Lavoro. Se la vostra sarà una domenica lavorativa, dovreste puntare tutto sull'innovazione nel lavoro, per ottenere dei riconoscimenti meritati. Capricorno. Amore. Affetto e comprensione caratterizzano le relazioni. Purtroppo però, durante questa giornata nulla sarà semplice, visto che venere sarà ancora una volta in posizione opposta. State ben attenti nei rapporti. Lavoro. Responsabilità e creatività sul posto di lavoro saranno fondamentali, se avrete una domenica da dover trascorrere in ufficio. Acquario. Amore. Energia positiva nell'amore per quest'oggi. Potrete contare su una posizione di venere davvero molto buona, che incoraggerà ogni tipo di rapporto, anche le conoscenze nuove. Lavoro. Dovrete essere ottimisti, anche se la stanchezza del fine settimana si farà sentire molto. Pesci. Amore. La comunicazione rafforza i legami, quindi non potrete farne a meno, soprattutto se con il partner non tutto è chiaro. Le stelle non saranno così male per questa nuova giornata di fine novembre, anzi. Lavoro. Potrete esplorare nuove prospettive per ottenere un successo professionale. Le novità incoraggiano sempre, e le stelle di oggi vi permetteranno di fare passi in avanti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.